E' polemica alla Dispoli sul mancato utilizzo del Teatro Bannini come mensa dell'Istituto Corrado Belone. Ad alzare la voce è il dirigente scolastico Riccardo Agresti. Per garantire il distanziamento abbiamo dovuto convertire in aule l'area del refettorio, ha spiegato. L'ASL consente il consumo del pasto in classe, la scuola però non ha adeguati spazi ed ha chiesto al comune di poter usare la sala polifunzionale. Purtroppo abbiamo ricevuto il diniego dal nuovo assessore alla pubblica istruzione Fiavo Bitti. Viste le gravi problematiche in cui si trova la ditta appaltatrice del servizio di refezione, anche la Melone, come le altre scuole, è costretta a chiedere lo slittamento dell'inizio delle lezioni a tempo pieno a fine mese. Piuttosto scarna la spiegazione dell'assessore Bitti. Tenendo conto di una serie di aspetti amministrativi, ha commentato, non è ipotizzabile l'utilizzo del Teatro Bannini come refettorio. Ma secondo il dirigente scolastico Agresti, alla base del rifiuto ci sarebbero non meglio precisati dispettucci. Inoltre, tra le altre cose, gli sarebbe stato risposto che non si può mangiare in un luogo dedicato ad un morto.